oggi abbiamo incominciato all'alba a lavorare l'humus per riuscire a soddisfare le richieste dei nostri clienti qui abbiamo la prima linea agricola che si incomincia a formare questo invece è un prodotto che bisogna ancora sbagliare qui dentro invece mettiamo il sottovaglio in modo tale che deve essere pronto per le altre lavorazioni che faremo di qui a qualche giorno e qui in fondo c'è la rimanenza del prodotto da vagliare ecco qui e se invece quello già vagliato grazie